Un saluto dalla redazione del GR Asi in studio Marco Paganelli. Bruxelles ha bocciato formalmente la nostra manovra economica concedendo a Palazzo Chigi tre settimane per cambiarla. La comunicazione è giunta oggi pomeriggio al ministro dell'economia Giovanni Tria in una lettera. I commissari europei Dombrowskis e Moscovici hanno scritto che Roma non ha considerato né le raccomandazioni del Consiglio né gli impegni presi dall'Italia, andando coscientemente contro questi ultimi. I due esponenti hanno aggiunto che la Commissione europea è stata costretta per la prima volta a chiedere a un Paese membro di rivedere la propria legge di bilancio. L'Europa è costruita sulla cooperazione. Se la fiducia viene erosa, tutti gli stati membri vengono danneggiati. Così si legge nell'epistola. Tria convinca il governo a ripensarci, ha aggiunto poco dopo Moscovici in conferenza stampa. Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani. E poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea ha il minimo della popolarità, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo che indietro non si torna. Siamo sulla strada giusta, non ci fermeremo, ha promesso il collega Luigi Di Maio. Giornata negativa per Piazza Affari. L'indice Fuzzi Mib della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne in forte ribasso ed è peggiorato subito dopo la bocciatura della manovra economica italiana da parte dell'Unione Europea. Il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi ha superato i 310 punti base dopo le notizie negative provenienti da Bruxelles. Veniamo alla politica italiana. Le commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato oggi il decreto Genova e sulle altre emergenze. Dopo il voto degli emendamenti è stato dato il mandato ai relatori per discutere il provvedimento in aula. L'esame comincerà domani mattina alle 9.30 a Montecitorio. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie. 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 Grazie.